È sempre più difficile fare il giornalista, ci sono ristrettezze economiche che non si sono conosciute in passato, molti giornali chiudono, molti canali di informazione chiudono e quello che è peggio è che quelli che non chiudono ritengono che il lavoro del giornalista possa essere sottopagato e possa essere non formato. A fronte invece di tante novità, le scuole di giornalismo in particolare, che invece producono giornalisti molto formati, giovani giornalisti molto formati, molto preparati e nell'incontro di queste due novità, l'immissione di giornalisti molto preparati, giovani giornalisti molto preparati e motivati, è una ristrettezza, si creano le condizioni di frustrazione, dell'idea che non si possa arrivare poi a coronare il sogno di fare questo mestiere, però io invece penso che per le ragioni che ho detto prima, che il giornalismo sopravviverà, avrà bisogno di gente che scrive, gente che va in giro a raccogliere immagini, voci, sempre più qualificata e preparata e in questo la sfida si alza, però una sfida appassionante ancora vale la pena farla per chi ama questo mestiere.